Buonasera, o buongiorno o buon pomeriggio, in base a dove vi trovate. Come state? Spero stiate bene. Allora, devo farvi le solite domande di rito, quindi, mi vedete bene? E mi sentite bene? Fatemi sapere nella chat. Allora, oggi riprendiamo il discorso sull'imperativo, sul modo imperativo che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Oggi aggiungiamo delle informazioni. Fatemi mettere le diapositive, così ci capiamo meglio e riesco a spiegare meglio le cose. Allora, come vi dicevo, continuiamo il discorso sull'imperativo. Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Grazie mille, ciao Dominique, ciao Erin, ciao Sofia. Perfetto, perfetto. Allora, riprendiamo il discorso sul modo imperativo. La scorsa volta, la settimana scorsa, nella lezione precedente, che, tra parentesi, se vi siete persi la lezione precedente, la ritrovate nella sezione delle lezioni indiretta oppure nella playlist. In ogni caso, metterò il link nella descrizione di questa lezione che poi si trasformerà in video. Quindi, niente paura, è tutto recuperabile, non vi siete persi nulla. Perciò, magari, poi con calma potrete, se vorrete, potrete andare a riguardare quella lezione. Nella lezione precedente abbiamo introdotto il modo imperativo, abbiamo visto quali sono le funzioni del modo imperativo, abbiamo visto che cosa si intende per imperativo diretto e indiretto, abbiamo visto la forma negativa e abbiamo visto come usare l'avverbio pure insieme ad una forma imperativa per addolcire un po' l'ordine, il comando, l'esortazione. Va bene? Quindi, ripetiamo velocemente che per imperativo diretto si intende il tu e il voi, quindi le funzioni proprie del modo imperativo. Per imperativo indiretto si intende, invece, la forma imperativa che si usa nei confronti di persone che non si conoscono o con cui si ha un rapporto formale. e perciò è la forma imperativa con il lei, quindi mentre si dà del lei. Va bene? Quindi oggi riprendiamo queste due distinzioni perché ci servono per vedere come utilizzare il modo imperativo insieme ai pronomi. Nello specifico, i pronomi oggetto diretto, i pronomi oggetto indiretto, i pronomi combinati, quindi quando usiamo i pronomi diretti e indiretti insieme. E poi vediamo anche ci e ne che possono essere pronomi ma le chiamiamo particelle più generalmente. Quindi vediamo tutti questi pronomi e particelle insieme al modo imperativo. Va bene? Allora, ci sono problemi con l'audio? Noman dice che l'audio dà problemi. Questo potrebbe essere un problema. Per il momento continuiamo così, in caso magari vedo se riesco a risolvere per la prossima volta. Allora Andres dice sento bene, Aaron sente bene, Enelio sente bene. Ok, allora per il momento tutto bene, perfetto. Ok. Allora, iniziamo. Io direi di iniziare perché abbiamo concluso l'introduzione. Quindi abbiamo detto che in questa lezione impareremo ad usare l'imperativo insieme ai pronomi, quindi pronomi oggetto, pronomi combinati e le particelle N e C. Perché è importante? Perché, come sapete bene, i pronomi sono ovunque, sono usati sempre, sono indispensabili nella conversazione quotidiana, perché ci aiutano a evitare le ripetizioni quando parliamo. Ci aiutano a riferirci a determinate cose, a determinate persone o anche oggetti senza menzionarli troppe volte. Quindi sono estremamente funzionali alla comunicazione e capita spesso che si usino insieme all'imperativo. Quindi è molto importante saperli usare bene insieme. Allora, iniziamo dall'imperativo diretto che abbiamo detto corrisponde ai pronomi soggetto tu, noi e voi. Che sono tu e voi quelli propri dell'imperativo. E poi aggiungiamo anche il noi che io nella lezione precedente ho classificato come imperativo, come forma esortativa. Però adesso per esigenze di tempo e spazio ho messo insieme all'imperativo diretto. Lo troverete come imperativo diretto anche in alcuni libri di grammatica, quindi va bene così. Imperativo diretto tu, noi, voi. In opposizione all'imperativo indiretto che è lei e loro, anche se loro non si usa. Quindi noi dopo vedremo solamente lei. Però adesso concentriamoci su questo imperativo diretto insieme ai pronomi oggetto, ai pronomi combinati e alle particelle ne e ci. Quindi come si uniscono questi pronomi quando abbiamo una persona, un pronome soggetto dell'imperativo diretto? Si uniscono come suffisso alla forma imperativa. Cosa vuol dire che si uniscono come suffisso? Significa che noi dobbiamo mettere il pronome che vogliamo usare alla fine della forma imperativa a formare un'unica parola. Questo vuol dire unirlo come suffisso. che lo mettiamo dopo la forma verbale, però andando a formare un'unica parola. Quindi, per esempio, faccio un esempio, qui ho un bicchiere. Se io dico compra subito il bicchiere o compra il bicchiere subito, per non ripetere bicchiere dirò compralo subito. Quindi io aggiungo lo che è il pronome oggetto diretto perché comprare è transitivo, comprare che cosa? Il bicchiere. che va quindi va a sostituire il bicchiere perché non vogliamo ripetere bicchiere. Lo metto dopo la forma verbale all'imperativo che è compra e quindi vado a formare un'unica parola. Cioè compralo, compralo subito. Stessa cosa per i pronomi oggetto indiretto. Per l'esempio sotto. scrivetemi domani. Cioè voi scrivete a me domani. Scrivetemi. Quindi mettiamo prima la forma verbale coniugata all'imperativo e poi il pronome oggetto indiretto. che in questo secondo esempio, mi, è indiretto appunto perché scrivete a me. Il verbo scrivere è ambivalente nel senso che può reggere sia i pronomi diretti sia i pronomi indiretti e quindi è allo stesso tempo transitivo e intransitivo. Perciò possiamo dire scrivimi domani ma poi anche possiamo dire scrivete la lettera a me domani. Quindi scrivetemela. Però anche in questo caso tutti e due i pronomi vanno dopo perché si tratta di voi. Quindi prima abbiamo detto tu compralo, voi scrivetemi. Poi abbiamo un altro esempio sempre con tu. Diglielo. Quando abbiamo tu, noi, voi i pronomi che siano pronomi oggetto, pronomi combinati, particelle, ne e ci vanno sempre dopo, dopo la forma verbale. A formare un'unica parola. Vediamo altri esempi, in questo caso con ne e ci. Parlane, parlane con qualcuno. Non posso dire ne parla perché non è più imperativo, non è più una forma imperativa se dico ne parla, se metto ne prima. diventa un presente indicativo, diventa lui o lei ne parla. Quindi cambiamo completamente contesto verbale, tra virgolette, cambia il tempo e il modo verbale. Per mantenere la forma imperativa dobbiamo mettere il pronome o la particella dopo, quando si tratta dell'imperativo diretto. Un altro esempio, andiamoci. Quindi noi, questo è esortativo perché chi parla si include nell'azione di andare. Andiamoci significa andiamo noi in quel posto, quindi ci, il famoso ci locativo. Quindi in questo caso è un pronome perché va a sostituire il luogo. Va bene, quindi questa è l'informazione essenziale per adesso, cioè che con l'imperativo diretto, quindi con le persone tu, noi e voi, i pronomi o le particelle devono essere messe dopo la forma verbale, quindi si uniscono come suffisso e vanno a formare un'unica parola. Perché è importante? Perché poi con l'imperativo indiretto, che vediamo tra poco, è esattamente il contrario. Però, prima di passare all'imperativo indiretto, dobbiamo dire un'altra cosa. Dobbiamo dire che questa informazione riguarda solamente il tu. Ma se dobbiamo coniugare i verbi andare, fare, dare, stare, dire alla seconda persona singolare, forma imperativa, quindi tu, e poi dobbiamo anche usare un pronome o una particella, vale tutto quello che ho detto fino adesso, cioè che va messo dopo come suffisso a formare una parola unica. Ma qual è la particolarità di questa situazione? La particolarità è che il pronome che viene aggiunto crea una doppia. Quindi, non posso dire dimmi, falo, vacci. Devo raddoppiare la consonante del pronome o della particella. E questo vale solo per i verbi andare, fare, dare, stare e dire. Va bene? E solo alla forma tu, cioè solo alla persona, la seconda persona singolare, tu. Ok? Quindi, per i verbi andare, fare, dare, stare e dire, dobbiamo raddoppiare la consonante del pronome oggetto che vogliamo usare o della particella. E quindi, per esempio, dimmi, falo, vacci. Vediamo altri esempi. E qui, in questi esempi, troviamo anche dei pronomi combinati. Quindi, fammelo sapere, diccelo appena puoi, fatene tesoro, andiamoci, scrivetemelo. Ovviamente queste frasi sono prese da un contesto, no? Quindi adesso noi le mettiamo senza contesto perché ci serve vedere solamente la struttura. dobbiamo osservare la forma della costruzione verbale. Ovviamente senza un contesto sono un po' difficili da interpretare perché dovremmo sapere a cosa fanno riferimento i pronomi, per esempio. Però, per il momento, non ci interessa tanto perché noi stiamo osservando la struttura verbale. Rileggiamo queste frasi e rileggetele anche voi ad alta voce. Mi raccomando, io non vi posso sentire, purtroppo, però ripetete queste frasi ad alta voce. Fammelo sapere, fammelo sapere, fammelo sapere. Diccelo appena puoi, diccelo appena puoi. Quando faccio così, dovete voi dire ad alta voce. Fatene tesoro, fatene tesoro. Allora, fare tesoro di qualcosa significa usare una determinata informazione in modo corretto, in modo giusto, in modo buono. Quindi, se un amico o un'amica vi dà un consiglio, poi voi farete tesoro di quel consiglio, cioè lo userete bene quando avrete l'occasione di usare quel consiglio. Quindi questa è un'espressione carina, fare tesoro di qualcosa. Poi abbiamo andiamoci. Ad alta voce. Andiamoci. E infine, scrivetemelo. Qui c'è il doppio pronome, me, lo. Quindi scrivete un messaggio, qualcosa a me. Scrivetemelo. Scrivetemelo. Potremmo fare una lezione di pronuncia? Ci penso, perché potrebbe essere interessante. Magari potremmo ripassare la pronuncia delle doppie, delle consonanti doppie o di alcuni suoni un po' complessi, come gli. Potremmo vedere il suono della R. Vediamo, vediamoci. Voi fatemi sapere se siete d'accordo. E questo era il capitolo sull'imperativo diretto. No, non è vero. Non abbiamo finito, perché vi devo anche parlare della forma negativa con i pronomi. Allora, vedete com'è tutto molto spontaneo nelle lezioni in diretta. Allora, c'è il capitolo della negazione. Allora, se io dico bevilo, bevilo, magari avete un tè o un caffè davanti e aspettate troppo e io dico alla persona che ho davanti bevilo. Bene. Se voglio dire il contrario, cioè se voglio dire alla persona di non bere quello che ha davanti, come posso dire? Posso dire non berlo, sempre con il tu, ovviamente. Oppure non lo bere. Quindi, che cosa osserviamo da questi esempi? Osserviamo che con l'imperativo diretto la negazione, il pronome, può essere messo sia alla fine del verbo per creare una sola parola, sia prima del verbo. Quindi, in questo caso, ho un po' di libertà di scelta. Posso dire non berlo, no. Posso anche dire non lo bere. Sono accettate entrambe le forme. Stessa cosa, andateci. Per esempio, state organizzando un viaggio a Roma e mi dite stavo pensando, stavamo, perché vuoi, stavamo pensando di andare al giardino, all'orto botanico. E io vi rispondo, andateci, andateci. Se invece volessi dire il contrario, cioè non andateci, no, all'orto botanico andateci perché è carino. Vediamo un altro esempio. Non lo so, immaginate un altro posto in cui vi dico di non andare. Come ve lo dico? Vi dico non andateci, non andateci oppure non ci andate. È accettata anche la seconda forma con il pronome prima del verbo. Quindi, che cosa osserviamo? Che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che con l'imperativo diretto, se dobbiamo fare la forma negativa, il pronome lo possiamo mettere dove ci viene spontaneo metterlo. Quindi sia prima che dopo. Ok? Quindi adesso veramente si chiude il capitolo dell'imperativo diretto e si apre quello dell'imperativo indiretto, cioè lei. Perciò la forma imperativa di cortesia, questo è. Che cosa succede se diamo del lei a qualcuno ma allo stesso tempo diamo un ordine o un'esortazione o un comando? Succede che il pronome o la particella deve andare prima della forma verbale. E quindi, per esempio, sempre con il discorso del bicchiere, se do del lei dico lo compri, lo compri, quindi il pronome va prima. Un altro esempio. Mi scriva domani. Mi scriva domani. Oppure lo dica ora. Lo dica ora. Quindi succede esattamente il contrario di quello che succede con l'imperativo diretto. Quindi nel caso della forma di cortesia, lei all'imperativo, i pronomi o le particelle vanno prima, quindi davanti la forma verbale. Vediamo altri due esempi. Ne parli con qualcuno? Ci vada! Sempre nell'orto botanico. Ci vada! Va bene? Paradoxalmente è più semplice questa forma dell'imperativo indiretto di cortesia che l'imperativo diretto che è l'imperativo standard. Vediamo degli esempi. Me lo faccia sapere. Ce lo dica appena può. Ne faccia tesoro. Ci vada! Me lo scriva. Di nuovo e ripetete anche voi ad alta voce. Mi raccomando. Me lo faccia sapere. Ce lo dica appena può. Ne faccia tesoro. Ci vada! Me lo scriva. Me lo scriva. Ma se ne uno asseriziano? Io gli ajè voluto al conto è che i pronomi si comportano come si comportano sempre, cioè si mettono prima della forma verbale, quindi è il loro comportamento standard. No, non aggiungo altro, questo, volevo dire una cosa, poi ho detto no, non la dico. Vediamo ora la forma negativa, la negazione con l'imperativo indiretto, allora qui in questo caso non abbiamo scelta e oserei dire meno male, perché così questa è la regola e basta, seguiamo la regola, perché a volte quando c'è scelta non si sa mai quale opzione scegliere, no? Quindi tutto sommato con le regole grammaticali forse è meglio avere una regola ben chiara. Allora, di nuovo, io do delay alla persona che ho davanti, questa persona non vuole bere il caffè che ha davanti e io dico lo beva, lo beva, quindi forma affermativa diciamo, senza la negazione. Se invece voglio dire il contrario, devo dire non lo beva, non lo beva, non lo beva. Vediamo un altro esempio. Ci vada, quindi esorto la persona che ho davanti ad andare in un certo luogo, ci vada, ma se devo dire il contrario, cioè se devo usare la forma negativa, dirò non ci vada, non ci vada, mi raccomando, non ci vada. Quindi i pronomi, le particelle vanno prima, non abbiamo scelta, ok? Allora, voglio, come ultima cosa, voglio condividere con voi questa tabella, una sorta di tabella riassuntiva di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, però in forma esemplificativa, con un verbo coniugato, sia diciamo con la forma affermativa che con la forma negativa, con i pronomi, eccetera. Allora, ditemi se si vede... scusate questi momenti di pausa, ma sto cercando di fare mente locale, sto cercando di pensare se mi sono scordata qualcosa, eccetera. Sono un po', un po', diciamo, un po' stanca, un po' emozionata per la diretta. Allora, fatemi sapere se la tabella si vede. Allora, in questa tabella abbiamo, come dicevo prima, una sorta di riassunto sotto forma di esempio di tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso. Prendiamo il verbo dire e coniughiamolo alla forma imperativa con il pronome lo, perché di solito dire si usa con il pronome diretto lo. Dillo, lo dica, diciamolo, ditelo. Quindi, tu dillo. Il pronome si mette alla fine come suffisso e va a creare un'unica parola. Qual è la particolarità? La particolarità è che è il verbo dire, uno di quei verbi che raddoppia la consonante del pronome alla coniugazione tu. Quindi, dillo. Lo dica, lei. Qui, siccome è l'imperativo indiretto, lo va messo prima della forma verbale. Lo dica. Poi abbiamo di nuovo noi, diciamolo. Anche qui abbiamo detto che è imperativo diretto, perciò lo diventa suffisso. Stessa cosa per ditelo voi. Alla forma negativa, sempre per il tu, abbiamo non lo dire oppure non dirlo. Abbiamo la scelta. Possiamo metterlo sia prima che dopo. Invece, per la persona lei, non abbiamo scelta. Dobbiamo mettere il pronome prima della forma verbale. Non lo dica. Non lo dica. E invece, abbiamo di nuovo la scelta per noi. Non lo diciamo. Non diciamolo. E anche per voi. Non lo dite. Non ditelo. Va bene? Quindi questa tabella, praticamente, riassume, sì, non praticamente, riassume tutte le informazioni che abbiamo detto in questa mezz'ora abbondante. Va bene? Allora, come sempre, questa lezione la ritroverete come video sul mio canale. Quindi, se vi siete persi qualcosa o se semplicemente avete voglia di rivederla, la troverete sul mio canale. Va bene? Allora, adesso... Vediamo qualche domanda. Allora, Giuliana chiede... Allora, l'imperativo indiretto si usa soltanto quando si usa il lei? Sì, esatto. L'imperativo indiretto è un altro modo per dire l'imperativo di cortesia, quindi con il lei di cortesia. Allora, Gaucho scrive... Sembri stanca? Sì, è vero, sono un po' stanca. È carnevale anche in Italia? Sì, è vero, oggi è martedì grasso. Sì, sì. Ci sono tanti eventi di carnevale in varie città d'Italia, da nord a sud, con le parate dei carri allegorici. Sì, molto bello. Oh, grazie mille Erin, grazie a te per essere stata qui con noi oggi. Grazie a te, Caroline. LP scrive... Perché non fai più vlog? Mi mancano. Sono contenta che ti piacciono i vlog, non li sto più facendo perché non sto facendo niente di interessante durante le mie giornate. Sono veramente sempre al computer. Quando farò qualcosa di divertente, che sono magari anche in centro, allora ha un senso fare il vlog. Però, diciamo, nella vita di tutti i giorni, se sto sempre a casa al computer, non c'è niente di così entusiasmante da far vedere. Anzi, anche un po', diciamo, depressivo. Però, comunque, grazie mille per la domanda, grazie. Allora, Andre scrive, mi avvisi quando sarà la prossima lezione dal vivo? Certamente, allora, considera che vorrei mantenere sempre il martedì come giorno. Quindi, orientativamente, la prossima lezione potrebbe essere martedì 28 febbraio. In ogni caso, scriverò un annuncio, un promemoria nella sezione community del mio canale e anche su Instagram metterò il promemoria. Grazie mille, Brandt. Grazie a te. Allora, Katrin chiede un video sui diversi usi del gerundio. Ok, non ho ancora un video sul gerundio, ma me lo scrivo, me lo segno perché potrebbe essere un argomento per le prossime lezioni, certo. Quindi, grazie Katrin. Allora, io... Allora, una domanda che non riguarda l'imperativo da Tangerinca 410. Non riguarda l'imperativo, però sono curiosa. Perché si dice lo aiuto e non gli aiuto? Perché devi guardare il verbo aiutare. Il verbo aiutare non vuole la preposizione dopo perché è un verbo transitivo. e quindi dobbiamo usare un pronome diretto, perciò lo aiuto. Quindi quando hai dei dubbi su quale pronome usare, se diretto o indiretto, chiediti se il verbo è intransitivo oppure transitivo. O oppure chiediti se dopo c'è una preposizione oppure no. Perché il verbo aiutare è transitivo. Aiutare qualcuno. Non c'è una preposizione tra verbo e oggetto e quindi è transitivo. E quindi usiamo i pronomi diretti. E quindi si dice lo aiuto, cioè aiuto lui. Allora, grazie a te, Barry! Sono contenta che ti piacciono queste lezioni in diretta. Grazie per essere qui. Grazie a tutti per essere qui. Noman scrive, puoi fare una lezione interattiva sul condizionale? Certo, sì. Il condizionale in generale? O qualcosa di specifico del condizionale? Sì, sì. Possiamo fare tutto. Dobbiamo solo organizzarci. Grazie per la tua risposta, grazie a te per la domanda, Tangerinca o Tangerinca. Grazie a te. E direi che possiamo congedarci qui. Possiamo salutarci. Io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi e spero che questa lezione vi sia piaciuta. E ovviamente, come dicevo prima, rimarrà sul canale come video, perciò se volete fare un ripasso potete, senza problemi. E che altro dire? Ci vediamo nella prossima lezione. E ovviamente qualsiasi cosa, altre domande, altri consigli, spunti, suggerimenti, idee, commenti, qualsiasi cosa, la sezione dei commenti è a vostra disposizione. Grazie ancora, un grande bacio e alla prossima. Ciao!